Ed è arrivato il grande momento perché abbiamo deciso di mettere Aprilia a confronto con Yamaha, beh lei la Tuareg 660 è la grande novità 2022 va direttamente a sfidare Tenere 700 in che cosa? In facilità di guida, costi di gestione bassi, prezzo d'acquisto contenuto, motore potente ma non esplosivo che è adatto anche a chi inizia, insomma ci sono tanti tanti punti in comune a partire dalle ruote da 21 pollici davanti e 18 pollici dietro, cerchi a più ricca di elettronica Aprilia, più semplice e spartana Yamaha. E allora andiamo a scoprire anche tutte le differenze tra le due moto. E allora andiamo a vederle nel dettaglio e capire un po' le differenze. Intanto cosa hanno in comune? Cerchio anteriore da 21 pollici, tubeless per Aprilia e camera d'aria per Yamaha che ha anche i cerchi un po' più stretti 1,85 pollici davanti contro 2,50 e 4 pollici posteriore contro 4,50. Poi abbiamo fari, sono molto diversi, sviluppo verticale per Yamaha, orizzontale con le classiche 2V per il family feeling per la Touareg di Aprilia. I plexiglass sono fissi, non sono regolabili, molto più ampio e protettivo questo di Aprilia. Andiamo più in basso nel dettaglio. Motori bicilindrici in linea, 659 cm3 per Aprilia, 689 per Yamaha. Non è tanta la differenza, non è tanta la differenza neanche in termini di prestazioni. Queste due sono due moto Euro 5, siamo a 73,5 CV per la Yamaha, 80 CV per Aprilia. Differenze che sono soprattutto in termini di coppia e di erogazione, con una schiena leggermente più corposa ai bassi per Yamaha e un allungo migliore per Aprilia. Sono due caratteri diversi per fare poi alla fine la stessa cosa. Per chi ama a viaggiare abbiamo detto più protezione aerodinamica per Aprilia e autonomia un po' differente perché abbiamo 18 litri per il serbatoio in materiale plastico che si sviluppa molto in verticale fino molto molto in basso sotto la sella per Aprilia e 16 litri per Yamaha, leggermente più piccolo e in acciaio. Un aspetto in comune è la forcella che è sempre una Kayaba da 43 mm però ha 210 mm di escursione sulla Yamaha, 240 mm di escursione per Aprilia che ha sospensioni, ha maggiore escursione e quindi una maggior vocazione per il fuoristrada. Altri 240 mm al posteriore contro i 200 del mono ammortizzatore della Tenerè, entrambe hanno il pomello comodo per la regolazione del precarico. Quella trovata ad Aprilia con il attuare che è un'alchimia pazzesca perché sono riusciti a coniugare una lunga escursione delle sospensioni con una luce a terra buona e una sella parecchio bassa da terra 850 mm contro 8,75 della Yamaha. Questo è reso possibile da un motore molto compatto che è stato modificato rispetto a quello delle sorelle stradali RS e tuono con una coppa dell'olio dedicata molto più compatta. E a proposito di sella, l'Aprilia è anche molto comoda per il passeggero, ha una buona imbottitura, una porzione di sella adeguata e poi le pedane hanno il rivestimento in gomma quindi sicuramente un pacchetto molto adatto al turismo anche con il passeggero. Doppio freno a disco anteriore per entrambe con pinze Brembo a due pistoncini, hanno l'ABS, non è cornering per nessuna delle due, non abbiamo piattaformi inerziali ed è disinseribile per la guida in fuoristrada. Qui però c'è una grande differenza tra le due moto che va a giustificare anche la differenza di costo. L'Aprilia infatti ha una elettronica molto più completa ed evoluta, non solo diversi riding mode, ne abbiamo quattro completamente personalizzabili ma anche un traction control comodamente regolabile anche durante la guida. E Aprile è superiore in termini turistici anche per la presenza del cruise control che è reso possibile dall'esistenza del comando del gas ride by wire. Yamaha invece non ha nulla di tutto questo, l'ABS è disinseribile con un comodo tasto nella strumentazione per la guida fuoristrada però nessuna mappa e nessun traction control è una moto che sembra arrivare dagli anni passati. E di un'altra generazione è anche la strumentazione perché quella verticale in verità molto leggibile della Yamaha è un classico LCD con tutte le informazioni che servono, molto più moderno e al passo con i tempi invece il TFT di Aprilia al quale è stata aggiunta una aletta parasole per prevenire il surriscaldamento della strumentazione e limitare i riflessi però uno dei suoi difetti è proprio la leggibilità in piena luce cosa che invece pur essendo mediamente più modesta sull'LCD Yamaha non c'è questo problema, la si vede abbastanza bene anche in piena luce. Entrambe hanno una presa di corrente per caricare cellulari GPS ma sulla Yamaha è il classico 12 volt tipo accendisigari mentre Aprilia ha preferito adottare la Touareg di una più comoda e moderna di una presa USB. Allora Luca l'abbiamo finita di provare, un sacco di curve non finita di provare, non arrivano più per arrivare qua sul mare ci siamo divertiti anche tanto. Prima delle curve però abbiamo fatto un bel po' di autostrada. Dimmi un po' adesso che conosci molto bene la Tenere provata insieme alla Touareg cosa mi dici confermi quello che abbiamo sempre detto di com'è? Confermo quello che abbiamo sempre detto la Tenere sali e ti senti a casa a me piace un sacco la posizione di guida. In autostrada in particolare il cupolino che è molto piccolo rastremato va bene per proteggere il casco, anche con l'aletta, il casco da fuoristrada con l'aletta non vibra, va molto bene, spalle e busto sono più esposte all'aria, quello è evidente. La sella è un pochino dura, sulla lunga si soffre un pochino però la moto non vibra, la moto funziona bene, è molto piacevole. Però Aprilia ha un comfort di un altro livello onestamente, il plexiglass è tanto più largo, protegge bene anche le spalle, c'è una protezione aerodinamica migliore, la sella 5 gradini sopra per comfort, la parte anteriore è abbastanza stretta però ci si siede 5-10 cm più indietro e si allarga ed è veramente secondo me comodissima. Anche a lei come Yamaha non vibra assolutamente, ha anche addirittura il cruise control che per me è una gran comodità. È un mai più senza oggi. Eh, lo so, è così. E poi tutta la Valtrebbia per arrivare qua sul mare, curve e curve e ancora curve. Cosa mi dici della Yamaha? Gusto di guida? Il gusto è sempre tanto elevato, sì, nello stretto diciamo che sembra un pochino un super motard, nel senso che cade in curva, è molto agile, molto piacevole e il motore, il motore è veramente bello, è veramente pronto, ha dei bassi, dei medi vigorosi, più di Aprilia e questo danno gusto nella guida. Insomma sono due filosofie abbastanza diverse, più divertente e reattiva la Yamaha, un po' più dolce e progressiva anche tra le curve Aprilia, nonostante abbia un motore davvero divertente, va tenuto però più su di giri. Almeno un 1500 giri in più per avere tanta tanta spinta e divertirsi tra le curve, si usa meno la coppia. C'è da dire che qui abbiamo il quick shift che gli manca e funziona anche molto bene e questo è divertente. Quindi se vuoi guidare in modo più sportivo forse meglio Aprilia. Frena anche meglio c'è da dire. Sì, la frenata è migliore. Ha una miglior frenata però ha anche sospensioni più libere di idraulica e quindi più trasferimenti di carico. Per cui se cominci a guidare in modo un po' aggressivo con i freni al motore, hai questa ciclistica che si muove davvero tanto secondo me. Abbiamo anche aumentato il precarico solo sull'Aprilia di 10 click per il monomortizzatore, è migliorata. È migliorata tanto. Prima in uscita di curva si sedeva un po' troppo, adesso è più sostenuta e più piacevole. C'è da dire che è una moto comunque agilissima anche lei, non è più lenta o meno reattiva tra le curve. Rimane una moto agilissima. Diciamo che la sua sportività è più nel motore, mentre per impostazioni di guida è più sportiva e divertente Yamaha. La sella che è tanto bella e tanto confortevole nella sua spugna, però ha una linea un po' strana. Scende un po' verso il davanti e in certe situazioni ti ritrovi ad avanzare troppo. Sì, sembra inclinato un po' in avanti. Per me che sono abbastanza alto la vorrei rialzata e più piatta di linea. Da quel punto di vista Yamaha è meglio nella guida sportiva attiva. Due modi diversi, però alla fine ci siamo divertiti tanto con entrambi fino a tarda sera. Abbiamo invitato anche al buio differenze di fari, dimmi un po'. Allora, Yamaha la conosciamo bene, è un po' un suo difetto storico del faro, nel senso che la luce è molto intensa ma è molto limitata, cioè hai questo stacco tra luce e ombra netto e anche l'interno delle curve non viene illuminato molto bene. Quindi l'occhio si abitua alla parte molto ben illuminata e dove taglia la luce è veramente buio pesto e quell'interno curva è come non avere niente, è notte. Più diffusa invece è la luce del faro Aprilia. Più ampia, più diffusa, più piacevole. Resta comunque che l'interno curva non viene illuminato molto bene. Diciamo che i faretti aggiuntivi avrebbero senza da quel punto di vista per illuminare l'interno curva. Però se dobbiamo dare un voto sicuramente è migliore il faro Aprilia. Adesso qua ci sono un po' di appennini divertenti, andiamo a fare un po' di fuoristrada? Andiamo a fare fuoristrada. È giunto il momento di cambiare gomme, eccole qua. Allora perché intanto si cambiano pneumatici per andare in fuoristrada? Queste sono moto realmente a 360 gradi, molto polivalenti. Rispetto alle max enduro di 1000 e 1200 di cilindrata hanno un approccio più facile, non solo per la presenza della ruota anteriore da 21 pollici e il posteriore da 18, ma proprio per ingombri e pesi che permettono di divertirsi in fuoristrada anche a chi non è tanto esperto. Il pneumatico di serie è il Pirelli Scorpion Rally STR per entrambe le moto ed è una validissima gomma su strada, ha già un discreto tassello per cominciare a fare anche un po' di fuoristrada. Se si tratta di terreni compatti e quindi soprattutto possiamo dire nella stagione bella, è un pneumatico già valido in questa stagione e per andare a fare un fuoristrada un pochettino più impegnativo, un tassello un po' più aggressivo è una bella soluzione. E allora noi adesso lo montiamo. Ma prima vi raccontiamo un po' di come è fatta e ce lo dice direttamente il nostro Joe che è al centro sviluppo di Pirelli in Sicilia. Joe, dici un po'. Grazie Marco, bel tiro. L'hai tirata fino in Sicilia perché sono qui con Mestler. Ho appena provato le Caru 4 in misura 19-17 dedicate alle Maxi Enduro. Più vendute ovviamente mi direi tu come andranno nelle misure 21-18 con le tue ore X-60 e tenere 700. Caru 4 è un'evoluzione abbastanza importante rispetto a Caru 3. Perché cambiano la mescola e il battistrada per offrire performance ancora più elevate su strada e in fuoristrada. Quindi una gomma molto versatile proprio come le nostre Yamaha e Aprilia. Nello specifico Caru 4 presenta due mescole posteriore. Quella centrale realizzata in carbon black che è la stessa usata per la copertura anteriore e quella laterale posteriore con il 20% di silice. Ed è quest'ultima a far la differenza su asfalto bagnato. Caru 4 è stato sviluppato seguendo due percorsi paralleli. Uno dedicato alle misure 19-17 e uno alle misure 21-18 pollici. Ossia quelle di Aprilia Yamaha. In questo caso Mestler si è concentrata principalmente sul fuoristrada con l'aspetto stradale che non è stato assolutamente tralasciato. Anzi si sposa perfettamente con la finalità d'uso e le performance stradali di queste moto. Caru 4 però non è solo questo ma anche il tassello mancante tra asfalto e fuoristrada. Ma a raccontarci qualcosa in più ci pensa Salvo Pennisi. Vai Salvo! Caru 4 è senz'altro l'innovazione più forte che Mestler propone in questo 2022. Siamo partiti dal successo di Caru 3, un successo consolidato negli anni, per evolverci in funzione di quella che è stata anche l'evoluzione dei veicoli che oggi devono essere equipaggiati con queste gomme. Abbiamo lavorato moltissimo sul disegno battistrada, un disegno battistrada che riesce a coniugare le esigenze di una grande trazione in off-road ma anche di una grande stabilità su strada. Questi sono pneumatici destinati ad equipaggiare delle moto che devono viaggiare tanto sia su strada che fuori e quindi serviva avere questo bilanciamento fortissimo tra prestazioni importanti in fuoristrada e stabilità assoluta su strada. E questo lo abbiamo ottenuto attraverso un bilanciamento molto riuscito tra disegno battistrada, struttura e profili degli pneumatici. Le grosse moto da enduro di nuova generazione sono evolutissime anche dal punto di vista dell'elettronica e quindi Caru 4, pneumatico tassellato, molto tassellato, ha fissato oggi un livello di riferimento per quanto riguarda l'interazione di questa categoria di pneumatici con i sistemi di controllo elettronico delle moto. Questo avviene su strada, avviene su fuoristrada ma anche sul bagnato quindi il Caru 4 è una delle coperture più adatte a un utilizzo a tutto tondo in condizioni tra le più disparate. Stiamo montando i Caru 4, pressioni che consigliamo per la guida. Allora su strada quella dichiarata dalla casa, mentre in fuoristrada 1,8 bar sia davanti che dietro è una buona via di mezzo. Ovviamente se il terreno è molto morbido, sabbia, fango, si può anche scendere un po' di più per avere più trazione però in caso di sasso, soprattutto sasso piantato, è meglio non scendere sotto l'1,8 per non rischiare sulla tenere di pizzicare la camera e sulla aprilia invece di bozzare il cerchio. Sulla aprilia c'è un mozzo posteriore particolare è imbullonata la parte del parastrappi al mozzo vero e proprio questo permette in caso di guasto, di rottura perché magari in fuoristrada si è presa una brutta pietra eccetera se si rompe qualcosa nel parastrappi è sufficiente sostituire questa parte senza dover cambiare tutto il mozzo, quindi compromettendo la ruota e costi quindi di sostituzione decisamente più contenuti. Adesso vi faccio vedere le differenze fra Caru 3 e Caru 4 qui li abbiamo a confronto, questo è il Caru 3, questo è il Caru 4 il battistrada del Caru 3 è asimmetrico mentre il Caru 4 è simmetrico i tasselli sono più distanziati e più netti perché è stato fatto così? Per avere uno scarico maggiore in caso di fango e quindi è un pneumatico studiato per andare meglio anche sui terreni morbidi sabbia, fango eccetera. In fuoristrada lo vediamo sulle nostre due regine. non lo vediamo sulle idee furistrada. Prima cosa togliere i gommini dalle pedane perché se non ci scappano i piedi può essere molto pericoloso. Seconda cosa piccoli aggiustamenti per fittare il meglio le moto per la guida in furistrada. Abbiamo trovato il manubrio della Tuarg eccessivamente arretrato e basso quindi lo gireremo leggermente in avanti correggendo poi l'inclinazione delle leve per trovare la miglior posizione. Nello specifico le abbasseremo leggermente così che da in piedi il polso non va a fare angolazioni esagerate o esasperate e diciamo in posizione normale. Adesso entriamo nello specifico e vediamo che cosa andiamo a fare. Per prima cosa regoliamo l'assetto e quindi agiamo sul precarico delle molle. Sul lato aria che si può regolare sia il precarico delle molle della forcella che il precarico della molla del mono. Generalmente queste moto hanno un'impostazione pensata per andare prevalentemente su strada magari in due magari in due con i bagagli quindi sono tendenzialmente puntate in avanti o quantomeno molto precaricate dietro. Prima cosa quindi abbiamo tolto precarico alla molla del mono portandolo quasi a zero abbiamo tolto 10 clic. Dopodiché andiamo a dare un po' di precarico alle molle della forcella in quanto la moto fa tanto trasferimento e soprattutto perde subito molta escursione andando poi a tamponare quando si affrontano buche o passaggi un po' più accidentati. Per quanto riguarda i clic sulla Tuarg cercheremo di controllare un po' di più l'idraulica proprio per darle la possibilità di partire un po' più alta e recuperare o comunque sfruttare tutta l'escursione delle sospensioni. Per quanto riguarda la tenera invece l'impostazione è abbastanza azzeccata. Lavoreremo sulle sospensioni, precarico ovviamente gommini delle pedane. Guardate qua che musetti felici, le abbiamo portate un po' in fuoristrada a divertirsi, d'altronde queste sono le moto che promettono davvero di far divertire anche in fuoristrada rispetto alle sorelle di maggior cilindrata. L'hanno mantenuta Angelo questa promessa? Assolutamente sì, assolutamente sì e anche la Tuarg che è quella che io non conoscevo si è comportata molto molto bene e facendoci divertire e portandoci ovunque. Tenere lo conosciamo bene, sappiamo che è una moto molto divertente in fuoristrada. La prima presa di contatto con la Tuare che è stata la presentazione in Sardegna, io mi ero sbilanciato tanto a dire che è il riferimento in termini di facilità di guida. Il primo approccio per chi non è tanto esperto, questa moto è quella che ti mette a tuo agio. Confermiamo che è così? Sì, confermo anch'io questa sensazione perché lei, prima di tutto, è leggermente più bassa quindi si tocca molto bene a terra. La risposta al gas è molto più dolce e quindi è più facile sotto darle trazione quando si vuole cercare la trazione e non la si trova. Senza trascurare il fatto che ha anche la possibilità di mantenere il traction control su un livello molto basso che agevola questa situazione. Eh sì, perché la Tuareg ha un'elettronica decisamente evoluta rispetto alla Tenere, quattro livelli di traction oppure disinseribile e anche il freno motore regolabile su diversi livelli. È una cosa in fuoristrada che può essere utile e a chi avere un freno motore regolabile? Allora, il freno motore regolabile è una cosa importante, tornando al discorso prima della facilità, perché un filo di freno motore in discesa può aiutare a non esagerare con i freni, quindi sfruttare il freno motore e non bloccare le ruote. In realtà, poi più si è esperti, più si cerca una moto che scorra, quindi magari si riduce il freno motore per lasciarla scorrere meglio. E parlando di esperti, senza arrivare ai livelli in cui ti vedo guidare di solito, però cosa possiamo dire a chi ha un po' di esperienza e a chi ha voglia di accelerare? Tra le due moto, qual è quella che ti permette di andare un po' più veloce, divertirti un po' di più e ti dà un po' più di adrenalina? Io credo in prima battuta la Tenere, sia per l'impostazione, sia per come è sviluppata la moto a livello di sovrastrutture, triangolazione, sella, pedane e manubrio, assetto, appena sali la senti subito che è quella più simile a una moto, diciamo, sportiva da fuoristrada. Quindi anche nella guida si riesce ad essere subito più fluidi e più precisi, usando meglio il corpo. La Touareg è condizionata in questo, secondo me, dalla posizione di guida e nello specifico dal manubrio che è esageratamente alto e arretrato, soprattutto con una piega molto adatta alla strada, molto comoda e confortevole quando si è seduti, ma quando si vuole caricare l'avantreno e trovare il giusto equilibrio, non è così immediato il... Quindi un manubrio un po' più basso e con estremità un po' più aperte sarebbe la soluzione per guidare bene in fuoristrada la Touareg. Sarebbe la prima cosa che farei. È la prima cosa che... ed è semplice perché sostituire un manubrio alla fine non ci vuole niente. C'è un altro aspetto che invece non... non te la fa tornare così simpatica. La risposta... la prima risposta al gas. È molto più pronto il motore CP2 Yamaha. Regimi medio-bassi, tocchi il gas, hai subito una risposta più pronta, più decisa, ti permette di chiudere una curva, di farla partire subito in derapata. Cos'è che succede invece con Aprilia? Esattamente. Con Aprilia bisogna aumentare un po' l'intensità, quindi usare il motore in un arco di erogazione in cui poi può diventare un po' più nervoso, soprattutto nel momento in cui ci serve il tocco di gas proprio per cambiare, per innescare la derapata che ci fa chiudere una curva, per fare un'inversione, per farla derapata o per mantenere una linea con il sovrasterzo. La gestione elettronica del motore sull'Aprilia, la risposta al gas è davvero molto più dolce, molto più a punto. È rimasta su questa Tenere Euro 5 tanto on-off. Lo senti anche in fuoristrada? Un po' si sente, abbiamo provato a cambiare il registro del gioco del comando gas, è migliorata però sicuramente rispetto alla Touareg è più accentuato questo fenomeno. Si sente in fuoristrada? Sì, io lo sento di più su strada. Ok, ultimo capitolo, sospensioni. Sono maggiore escursione sulla Touareg, ma al di là di questo hanno una taratura di base tanto tanto morbida. Abbiamo visto prima come sono state regolate per la guida in fuoristrada, ma è migliorata. Qual è il suo livello a cui è arrivata secondo te? Allora, secondo me prima di tutto è in linea con il suo carattere, con la sua impostazione e cioè una moto facile. Ti guardavo ieri scendere in quel punto un po' accidentato con le buche, dai fortissimi, le sospensioni lavoravano molto di più sulla Touareg rispetto alla Tenere dove puntavano magari un po' la moto, sì che rimaneva più in assetto ma copiava meno. Invece queste partono estremamente morbide e ad andatura lenta copiano qualsiasi cosa. Noi poi abbiamo cercato una taratura un po' più sostenuta, sia a livello di precarico delle molle, sia a livello di idraulica. Rimane il fatto che se uno va piano la Touareg secondo me aiuta. E dopo molti chilometri di asfalto e di fuoristrada possiamo dirvi come va questo Caru 4. Sicuramente un grande passo avanti rispetto al Caru 3 soprattutto sull'asfalto bagnato dove il vecchio pneumatico non garantiva grande sicurezza mentre qui grazie a una nuova mescola abbiamo una gomma che permette di guidare davvero sicuri anche in condizioni di scarsa aderenza. E poi in fuoristrada è un'ottima gomma, ha dei vuoti superiori, riesce a scaricare bene anche i fondi a bassa aderenza tipo sabbia e fango e ha un buonissimo appoggio anche all'anteriore. Sicuramente un pneumatico valido per chi vuole andare a fare del turismo su strada e in tanto occhio al fuoristrada. Dai, siamo arrivati alla fine. Angelo e Luca ci siamo divertiti. Hai visto che alla fine con queste moto a poche centinaia di chilometri da casa non siamo andati così lontani e abbiamo trovato dei posti incredibili. È un po' il loro bello di divertirsi così. Luca, tre i motivi per cui ti compreresti la Tuareg? Perché è una moto versatile, protegge bene, è comoda, si può usare in tantissime situazioni diverse, è moderna, quindi ha tanta elettronica, funziona bene, è piacevole da usare ed è facilissima in tutte le situazioni, strada, fuoristrada, anche in città. Però sentendoti in questi giorni un filo di adrenalina che ti regala la Yamaha l'avresti voluta? Il gusto che mi dà la Tenerè comunque è superiore, pur con dei difettucci. Angelo, tre motivi per cui ti porteresti a casa Yamaha? Beh, fondamentalmente perché è gagliarda, perché ha un tocco del gas molto appagante, perché trasferisco tante delle sensazioni di una moto da fuoristrada, di una racing appena ci salgo, e perché la trovo semplice ed efficace. Anche se, devo dire la verità, adesso due ore di autostrada, tornare a casa è più comoda Aprilia. 10.000 euro circa per Yamaha, 2.000 euro in più per Aprilia, giustificati anche da una presenza di un comparto elettronico sicuramente molto più moderno e completo. Tutti i dettagli li trovate su Motociclismo, compreso anche tutte le regolazioni delle sospensioni delle due moto che abbiamo messo a punto insieme ad Angelo per il fuoristrada. Quindi se volete un po' divertirvi, non perdetevi il motociclismo. A presto! Ciao! 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 Ciao!